Allora, ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV, questo è primo cittadino, per chi non lo conoscesse è l'appuntamento che riserviamo almeno una volta al mese al sindaco della città di Fano. Il sindaco della città di Fano che è qui nei nostri studi, si chiama Massimo Seri ed è in carica. Buonasera sindaco, ormai da quanti anni? Siamo quasi al terzo anno, a giugno. Buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, il sindaco di Fano è uno juventino e si sta sacrificando per tutti voi, perché per chi ci segue in diretta ovviamente sa benissimo che c'è la partita della Juventus con il Monaco e quindi lo ringraziamo per questo sacrificio, ma quando ha scelto di fare il primo cittadino sapeva che sarebbe andato incontro anche a questo. Allora, sarà una puntata certamente più breve, anche per una questione di collocazione del palinsesto. Allora, cominciamo subito, abbiamo le telefonate, abbiamo già i messaggi, comunque al di là della partita siete sempre tanti dall'altra parte davanti alla televisione per seguire questo importante appuntamento. E allora, vi ricordo quelli che sono i metodi per collegarsi con noi e per parlare con il sindaco di Fano Seri in diretta. Sono lo 0721 86 14 33, questo è il numero di linea fissa per la diretta e poi c'è il 338 49 68 250 che potete utilizzare anche con l'applicazione WhatsApp gratuita per poterci mandare i messaggi. Mi raccomando, i messaggi devono essere brevi perché non abbiamo in diretta il tempo di sintetizzarli e soprattutto poi di leggerli con esattezza e quindi rischiamo di fare magari qualche errore. Quindi brevi, sintetici e chiari. Allora, cominciamo sindaco con, credo la prima telefonata se ce l'abbiamo già, dall'allargia mi dicono che abbiamo Gianni D'Afano. Allora, buonasera Gianni. Buonasera. Buonasera. Dica. Scusi sindaco, io volevo sapere di lei qualcosa in base al fatto dell'ospedale. Poi, siccome noi una volta a Fano ci avevamo tutto, io per fare un controllo di place maker ho dovuto prendere l'ambulanza e andare all'ospedale di Pesero. Oggi mi hanno richiamato per cambiare il place maker, sempre con l'ambulanza. Una città come Fano di oltre 60 mila abitanti, più il contorno, oggi ci troviamo proprio zero. Avrei piacere che lei mi dicesse qualcosa. Ma non solo per me, per tutta Fano. Grazie Gianni, grazie. In bocca al lupo e auguri. Dica. Sì, adesso la questione del signore che ha chiamato per quello che riguarda il place maker, in passato non si faceva penso neanche a Fano, si andava ad Ancona o a Bologna. L'organizzazione, per quella che è l'attuale organizzazione ospedaliera, ha visto, da quando sono arrivato, dallo scorso anno, un miglioramento e una crescita di reparti nella città, nell'ospedale di Fano. Lì c'è stata una scelta diversi anni fa, quella di un'integrazione fra le due strutture, che aveva una logica, che ha anche un senso, perché nell'era che viviamo non possiamo più pensare di avere doppioni a distanze così ravvicinate, perché questo non consenterebbe di avere una qualità più alta di questi servizi. E quindi c'è stata una divisione delle tipologie, delle acuzie fra i due ospedali. C'è stata una prima fase dove c'era stato un orientamento verso Pesaro e devo dire dal dicembre del 2016, dal gennaio 2016, c'è stata un'inversione di tendenza. Tant'è che tutta una serie di reparti si sono trasferiti all'ospedale di Fano per questa integrazione. Nell'ospedale di Fano c'è più quello che riguarda la medicina, infatti è arrivata la pneumologia, c'è tutto il discorso della diagnostica, l'endoscopia, fra l'altro con strumenti all'avanguardia arrivati che lo rendono un servizio. Noi abbiamo fatto diverse trasmissioni, missioni salute che aveva proprio questo scopo qua. Si sono spostate la parte più chirurgica, quella più complessa, ma in realtà si continua a operare perché il numero degli interventi sono aumentati nell'ospedale di Fano. Devo dire anche se andiamo a misurare, poi sono tutti numeri relativi, ma se andiamo a misurare anche i posti letto, in questo momento penso che siano leggermente più posti letto nell'ospedale di Fano rispetto a quello di Pesaro. Quindi si è andata in questa direzione riequilibrando le cose e va riconosciuto che anche rispetto a due anni fa tutta una serie di segnalazioni in negativo che arrivavano con una certa frequenza, lei poi me lo insegna perché voi siete un punto di riferimento. La famosa mala sanità. Esatto. Però io credo che la gente, soprattutto quelli che hanno una certa età, che magari erano abituati in un altro modo, fanno più fatica a comprendere questi cambiamenti che comunque poi vissuti sulla propria pelle hanno sempre un peso diverso rispetto a quando vengono raccontati. Quindi immagino che il Signore magari avrebbe preferito evitare il trasporto in ambulanza per cambiare questo pacemaker. Però come diceva il Sindaco, insomma, sono situazioni che non sempre si possono avere sotto casa. Poi in una situazione come questa... Poi vanno spese parole di applauso e di ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri che sono di qualità e di grande professionalità, anche umanità. Io ricevo spesso segnalazioni positive perché poi purtroppo quando c'è un esempio negativo quello si evidenza e tutti lo notano. Ma dietro questo ci sono tante belle pagine di buona sanità, di persone che si adoperano quotidianamente. Questo va riconosciuto perché anche in certe condizioni non facile, non è sempre semplice operare. Allora, questo mese che è appena trascorso è stato un mese caratterizzato da condizioni meteo instabili. Ci abbiamo passato un paio di settimane di... sembrava estate, poi è arrivato il maltempo, pioggia incessante. C'è stata una di queste precipitazioni piuttosto abbondanti che hanno causato problemi in via Pisacane. È in linea Amos che credo voglia proprio parlarci di questo, così mi segnalano dalla segreteria. Buonasera Amos. Il problema della ricezione delle acque meteoriche su via Pisacane. Siamo nella zona della stazione. Buonasera Amos. Sì, ciao Marco. Ciao. Ciao Amos. Ciao Massimo, ciao Marco. Niente, volevo sapere Massimo, perché qui si parlava di questo famoso scolmatore. La notte del giorno di Pasqua, per l'ennesima volta, l'ho passata di sotto nel garage con un ginocchio di acqua. Allora, questo scolmatore, perché prima si parlava di scolmatore, adesso si parla che allungate quegli esistenti. Cosa, in realtà, cosa dovrebbe venire qui in via Pisacane? Cosa avete studiato per poter eliminare questo problema? Grazie Amos, vai. Sì, intanto vorrei dire che le situazioni come queste ce ne sono due in particolare, la zona del Lido e la zona di via Pisacane. Poi ce n'erano delle altre sulla quale siamo riusciti a intervenire e adesso la situazione si è sistemata. Via Pisacane è una situazione complessa che sta lì da parecchi anni. Inizialmente c'era un progetto che prevedeva delle condotte, un intervento importante, ma con i lavori che sono iniziati, iniziano a brevissimo, perché il lavoro è già stato appaltato, del nuovo scolmatore, cioè questo si porta allo scolmatore a 350 metri dalla batige, e questo è un intervento che va a qualificare la qualità delle acque con l'arrivo delle scoglieri. Ma in realtà è un lavoro importante che aumenterà la portata nei momenti di precipitazioni importanti. E quell'intervento che, ripeto, inizierà a giorni e poi si sospenderà, perché è un lavoro che dura dei mesi, verranno sospesi i lavori nel periodo estivo, perché non possiamo lavorare in piena estate con i turisti sulla spiaggia, e riprenderà a metà settembre. Entro l'anno verranno ultimati. I tecnici mi hanno spiegato che questo intervento, aumentando la portata, quindi la capacità di accogliere questa quantità di acque nei momenti di grande precipitazione, porterà beneficio anche in via Pisacane. Lo verificheremo poi nel momento in cui entrerà in funzione. In seguito a questo poi dovranno esserci anche altri interventi, ma noi speriamo che questo intervento, che è anche significativo per quello che riguarda anche l'investimento che facciamo, porti dei benefici concreti nelle parti di via Pisacane, che purtroppo anche l'ultima volta ha creato diversi disagi. Comunque i lavori inizieranno... No, sono già stati appaltati. A breve. Non so dire se è tra una settimana, fra 15 giorni. Da via Pisacane, facendo qualche centinaio di metri più verso il mare, arriviamo in una zona dove c'è un comitato, il comitato delle brecce, che si batte, si è battuto nel tempo per salvaguardare via Fratelli Zuccheri, via tutte quelle vie che spesso venivano inondate quando c'erano le forti mareggiate. Ora il comitato, il suo presidente o comunque il coordinatore Ginesi mi ha mandato un foglio un po' troppo lungo. Io ho chiesto di essere sintetici, non possiamo leggerle tutte queste domande. Il problema più o meno lo conosciamo tutti. Ecco, allora, alla luce di queste nuove scogliere che sono state sistemate, alla luce del problema che c'è stato recentemente qualche giorno fa, dove gli operatori balneari, anche chi ha visto Fano TV Occhio alla Notizia, nei giorni scorsi avrà notato che si lamentavano di un certo problema riguardante la spiaggia che è stata mangiata in un certo punto rispetto agli anni scorsi. È chiaro che il mare è sempre quello, quindi le scogliere aggiustano da una parte, ma evidentemente fanno qualche altro danno dall'altra. Quindi, a luce di tutta questa situazione, che cosa può rispondere sia al comitato che agli operatori balneari? Beh, intanto è sotto gli occhi di tutti i benefici che questo intervento importante ha portato. Voglio ricordare che c'è un intervento che ha visto risorse del Ministero, della Regione, alle quali si sono aggiunte anche risorse dell'amministrazione comunale, proprio per fare un lavoro significativo e che potesse incidere. Noi abbiamo già visto che queste scogliere hanno difeso la costa, perché quest'inverno, nonostante le forti mareggiate che ci sono state, non si è mai verificato una sola situazione di danneggiamento, sia nelle abitazioni ma anche sulla strada. Io ricordo che gli anni precedenti, in questo periodo, avevamo già speso almeno 100 mila euro all'anno per sistemare Viale Ruggeri. Ma non solo c'è stata una protezione, ma abbiamo visto che già c'è un aumento anche della battigia, della spiaggia. Abbiamo anche detto che cercheremo di fare un ulteriore intervento con le economie che abbiamo avuto con l'appalto delle scogliere realizzate. Stiamo attendendo l'autorizzazione che verbalmente ci è stata indicata come favorevole per poter intervenire anche nella parte che abbiamo lasciato scoperta davanti alla ex pista dei Gokkar. Non essendoci lì delle abitazioni, dobbiamo sacrificare qualcosa. Il comitato chiede proprio anche questo, se è possibile aumentare. Quindi sta nei nostri obiettivi. Poi c'è la situazione che si è verificata 3-4 giorni fa, nella parte più a nord di Sassone, dopo l'anfiteatro Rasta, dove c'è stata un po' di erosione. Tipologie come queste sono verificate anche negli anni precedenti. Comunque noi monitoreremo gli effetti che queste nuove scogliere portano. In ogni caso stiamo aspettando, ci hanno assicurato che entro la settimana arriverà l'autorizzazione da parte della Regione per il ripascimento e noi siamo pronti per intervenire per il ripascimento in quella parte di Sassone. Velocemente, allora intanto abbiamo Roberto D'Afano che andiamo a salutare. Sapete che le telefonate hanno la precedenza rispetto ai messaggi, quindi salutiamo Roberto che è in linea. Buonasera. Buonasera. Buonasera signor Seri, buonasera signor Sindaco Seri. Ascolti, io sono una bilanze della Paleotta, le pongo un problema che oramai è da anni, prima della sua amministrazione anche due amministrazioni precedenti. e via Girona da Fano infonde un semaforo che porta a direttamente, non si può andare direttamente in via le cascucci, ma per girare verso Fano c'è subito un altro semaforo. Questo è una cosa disastrosa perché quanto c'è qualche amministrazione alla pista Zengarini o Marconi, si formano delle code perché per girare da via Girona da Fano, per girare per Fano c'è subito un altro semaforo, quindi si forma, si stanno due macchine e poi si forma alla fila in via Girona da Fano. Questa è una cosa oramai da anni che non è una cosa nuova. Non si prevede qualcosa di indicativo per risolvere questa cosa qua? Quello è un incrocio complesso. Nel momento in cui si va a spostare, a aumentare dei secondi, a ridurre dei secondi da una parte o dall'altra, si creano ovviamente degli effetti sulla strada principale in tasamenti. Io non sono un ingegnere e quindi non ho la capacità di spiegare quale possa essere la soluzione migliore. So che ci hanno ragionato, hanno fatto diversi tentativi e quella attuale è forse la soluzione più equilibrata rispetto ad altre che magari aumentano il verde in via Girona da Fano, ma dopo si creano file maggiori, creando maggior intasamento magari su Viale Primo Maggio. Quindi purtroppo quello avendo più accessi e non essendo perpendicolari l'uno con l'altro crea una complessità non facile da gestire. Comunque posso prendermi un ulteriore impegno per fare un ulteriore ragionamento con i nostri ingegneri del traffico per capire se giocando con qualche secondo più o meno si possono migliorare la percorribilità di quell'incrocio. Posso dire questo? Allora, al di là delle segnalazioni, ne stiamo ricevendo tantissime sulle strade e quant'altro che per il momento teniamo qui in stand-by. Volevo chiederle, hanno fatto notizia le tantissime multe che sono state elevate dalle telecamere che avete installato come amministrazione su Viale Primo Maggio. Abbiamo parlato nelle settimane scorse di qualcosa come 800 contravvenzioni, 800 verbali per persone che hanno attraversato anche con il semaforo rosso. No, solo con il semaforo rosso, quindi 800. Sono un numero davvero spropositato. Qualcuno mi faceva notare come fosse possibile. Ma non è una sorpresa, è statistico. Questo avviene in tutte le città. All'inizio quando si installano le telecamere, perché c'è l'abitudine, specialmente quando è notte e c'è poco traffico, la mattina che c'è poco traffico, di passare, si guarda se c'è qualcuno e si passa. Però quando c'è la telecamera non guarda orario. Poi capita che magari anche uno sopra pensiero, perché nelle strade intasate si è abituate, è capitato anche a me una volta, dico la verità, di trovare sempre una macchina davanti. O perlomeno c'è il verde, c'è il traffico che era là. Quando non c'è traffico, uno sopra pensiero magari passa. È capitato un caso dove i vigili stessi si sono preoccupati, perché c'era stata un'infrazione commessa dalla stessa macchina in un arco di tempo limitato più volte. Quindi lo hanno cercato, perché si cerca di fare anche il lavoro di questo tipo. E effettivamente ha detto perché non mi pone quel problema, non c'era quando non c'era traffico. Ci sono state anche lamentele. Però questo sistema che c'è nel nostro semaforo, non c'è solo la foto. C'è la telecamera che riprende alle spalle, c'è la foto e c'è la telecamera che riprende quando si è passati. Quindi molti dicono perché sono passato con l'arancione e poi è scattato il rosso. No. Lì si vede se uno passa con l'arancione o con il rosso. È capitato di tante persone che sono arrivate arrabbiate, poi hanno visto la documentazione, il video, e hanno dovuto prendere atto. È capitato il caso, adesso siamo genitori anche noi, del figlio che piglia la multa, per cui si giustifica, il padre arriva arrabbiato, va al comando, vede il risultato del video, poi si è arrabbiato con il figlio. Lo scoppolotto al figlio. Si è verificata anche la situazione di questo tipo. Ok. Mentre, lo dico anche per fare attenzione, perché poi questi strumenti non devono essere repressivi, devono essere a sicurezza e a tutela. Tutte le altre telecamere che noi abbiamo messo per la vigilanza della città, per ragioni di sicurezza, sono telecamere di ultima generazione, quindi hanno due funzioni. Una, riprende tutti i dati dell'auto, dal numero della targa, e quindi collegate con la banca dati, vedono se c'è l'assicurazione, se uno ha fatto la revisione, e ce n'è un ambientale che riprende proprio l'immagine dell'auto, della situazione. Le telecamere sono state utilissime, perché sono state operazioni di polizia, che sono date a buon fine, grazie all'ausilio di queste telecamere. Però nello stesso tempo, se noi non facciamo la revisione all'auto e passiamo lì, poi veniamo senza un'auto. Quindi chi vi accusa di averle inserite, installate per fare cassa... No, questo assolutamente... No, lo dico perché c'è un piano che è stato ragionato con le forze dell'ordine. Sono loro che ci hanno indicato dove applicare le telecamere e le stiamo applicando tutte sulle zone di accesso e di uscita della città. Perché chi viene a fare una rapina, chi viene a rubare nelle case, non sono fanisi, ma vengono da fuori. Per cui le abbiamo messe sul Ponte Metauro, nella zona del Zuccherificio. Le abbiamo adesso nella zona del Pincio. E la nostra intenzione è mettere le prossime alla zona di Sant'Orso, nella zona della Flaminia, verso la sede di Vigie del Fuoco. Sarà il nostro obiettivo in futuro, non ce l'abbiamo ancora in programma, perché sono impianti, non essendo tutte le zone cablate, quindi hanno un costo, bisogna mettere l'antenna, ma un costo elevato. Non tanto le antenne, che sono prezzi sostenibili, ma è tutto il collegamento. Anche nella parte verso Pesero, quindi devo dire, è un buon lavoro. È una città videosorvegliata. Abbastanza. Adesso non siamo ancora arrivati al completamento di tutto il progetto, ma anno dopo anno aggiungiamo telecamere, abbiamo messo anche al centro. C'è anche la possibilità, e questo è interessante, anche i privati possono adottare una telecamera, quindi possono installarla in una zona per tutelarsi e averla collegata direttamente alla centralina del comando di Polizia Municipale, che è collegata anche con le forze dell'Ordine. Allora, ci abbiamo un'altra telefonata, si chiama Stefano. Buonasera Stefano. Pronto? Pronto. Buonasera Stefano Dica. Buonasera. Sono un abitante della zona nuova di Bellocchi di Fano, precisamente via 29esima strada. Sì. Visto che abbiamo la fortuna di avere un bel polmone verde proprio nella nostra via, però con pochi giochi, e la presenza di giovani è tantissima, con relativi bambini, è possibile incrementare i giochi visto che c'è solo un'altalena, uno scivole, due panchine, ma proprio di numero. Tutto è possibile, l'importante è stanziare risorse. Posso dire questo, quando mi sono insediato, ho trovato una situazione di giardini pubblici veramente critica. Noi anche su questo abbiamo ogni anno fatto degli interventi, sistemato alcune aree, quelle che erano maggiore difficoltà, abbiamo portato anche nuovi giochi, infatti se notate per esempio in diversi giardini e parchi, se così li possiamo chiamare, quei giochi gialli con scivoli, sono tutti nuovi che abbiamo posizionato lo scorso anno. Noi cerchiamo ogni anno di destinare alcune risorse e proseguire questo percorso. Bellocchi ovviamente è una zona popolosa, è uno dei quartieri più popolosi, è chiaro che devono esserci anche gli spazi ben dotati anche per chi li frequenta. Quindi adesso non posso dire che prossimamente a breve faremo un intervento a Bellocchi, però lo inseriamo. Via di Villa Tombari nella zona della trave è pericolosa per la velocità e spesso c'è gente che purtroppo va contro mano. se si può limitare il traffico o trovare qualche rimedio prima che succeda qualcosa. Questa è la segnalazione. In previsione dell'estate poi c'è un altro telespettatore che chiede se è possibile mettere dei vigili davanti all'albergo Cecchini, al ristorante di Cecchini per regolare un po' meglio il traffico per evitare disagi e delle code. Io le leggo al sindaco ma poi c'è sempre lo ricordiamo qualcuno che dell'ufficio che sta seguendo la trasmissione un occhio su Fanotv e un occhio sulla partita le voglio anche ringraziare perché sono sempre puntuali e precise devo dire che già dalla mattina seguente della trasmissione c'è già l'elenco che parte per i vari allora velocemente c'è questa nuova iniziativa che abbiamo presentato proprio nel corso del telegiornale di questa sera si chiama la via dei ciliegi su questa bellissima strada che è stata rimessa completamente nuova devo dire è molto bella rifà completamente la città è molto bella e quindi va detto e va dato atto che ci voleva proprio un restyling in una zona così importante della città ecco però c'è questa segnalazione che dice gli anziani lì vorrebbero qualche panchina ecco se fosse possibile qualche panchina su via Garibaldi quella che poi abbiamo chiamato la via dei ciliegi che nei prossimi giorni diventerà la via dei ciliegi visto che ci siamo poiché questo intervento è stato un bel intervento e ha qualificato la zona è nostra intenzione proseguire intanto vivacizzandola e questa iniziativa va proprio verso quella direzione vogliamo anche proseguire rendendo viva anche la parte l'altra parte diciamo quella più storica di via Garibaldi ma voglio anche aggiungere che stiamo ragionando su piazza Costanzi e anche sui giardini amiani dove vorremmo fare degli interventi significativi di valorizzazione e i nostri uffici adesso stanno finendo del lavoro di progettazione poi inizieranno penso dal mese di giugno a lavorare anche su queste due zone della città allora Maria Teresa buonasera signora lei non è tifosa della Juventus no 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 io non sono tifosa di niente non ti tengo al gioco buonasera Massimo buonasera 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 io sono la mamma di Giulia quella di Farfi scusi pronto? pronto sì ti volevo chiedere lì le strisce padronali davanti al negozio di mia figlia che la gente nessuno rallenta niente quando è il giorno oppure durante la giornata le macchine camminano 60 70 80 non si sa chi guarda chi da rossetto chi guarda per terra chi quello qui l'altro io devo sempre vedere la gente che le frenate le gran frenate e i ragazzi che saltano ma non si può rifare le strisce padronali e mettere delle lampeggiatore? bene non ho capito non si può mettere le strisce padronali no fra l'altro per quello che riguarda le strisce padronali adesso inizieranno tutta una serie di interventi proprio per le strisce padronali poi partiranno degli interventi anche di nuove asfaltature perché faremo tutto insieme e abbiamo c'è già una gara in corso per un appalto di mezzo milione per nuove asfaltature più un altro piccolo appalto perché è già comunicato per Fano 2 allora ci sono alcune strade periferiche tipo Falcineto Bellocchi Carrara che sono frequentate da persone che camminano anche nelle ore serali lo so io ci vado a correre quando qualche volta però se ci va di sera non c'è la luce quindi per esempio a Cartoceto il sindaco Rossi ha messo quei lampioni che si alimentano con l'energia solare con i pannelli solari magari sentire farsi fare un preventivo se c'è la possibilità di inserire questi non sono bellissimi diciamoci la verità non sono proprio esteticamente noi per quello che riguarda l'illuminazione però sono funzionali l'illuminazione è un impegno importante anche finanziariamente per un'amministrazione noi ogni anno anche su questo aumentiamo punti luce nella città l'abbiamo fatto anche lo scorso anno abbiamo alcune zone molto trafficate anche da ciclisti e pedoni nei periodi estivi quindi vorremmo estenderlo anche nel nel 2018 fra l'altro abbiamo fatto un lavoro importante anche di sostituzione l'abbiamo fatto lo scorso anno al mare il centro storico quest'inverno lo faremo ai passeggi velocemente la scuola di Carrara Cucurano mi chiedono a che punto è la situazione la nuova scuola la gara da palto è stata fatta c'è un vincitore penso che una volta che c'è la gara c'è un periodo per la verifica dei requisiti dei requisiti e penso che siano l'affidamento penso che sia stato fatto proprio in questi giorni nel momento che c'è l'affidamento definitivo partono davanti alle mura Sangallo quindi siamo nella zona quasi in ridosso del centro zona stazione ferroviaria c'è il selciato che ci segnala una signora che il selciato si sta frantumando e poi ci sono le caditoie le fogne insomma che sono otturate allora sul selciato adesso lo faccio andare a vedere subito sulle caditoie anche su questo è un'innovazione che noi abbiamo portato da quando ci siamo insediati cosa che prima non si faceva con regolarità noi abbiamo affidato una risorsa annuale solo per la pulizia delle caditoie e annualmente si fanno un certo numero di caditoie in modo tale che si riesce a turno a fare la pulizia di tutte per cui anche questo è un intervento importante perché purtroppo in passato si verificava troppo spesso che si intasavano poi dopo la aiutiamo anche noi magari buttandoci anche non dico i rifiuti ma magari se c'è qualcosa sulla strada la buttiamo nella caditoia e si intasavano e nei periodi di pioggia rischiavano di allagarsi però ecco su questo c'è un lavoro proprio capillare che stiamo facendo quando arrivano i turisti spesso vanno a fare una passeggiata lungo la strada dell'Isippo siamo nel porto turistico Maria del Cese qualcuno adesso ha storto il naso per dei graffiti che stanno disegnando però credo da così mi dicono che quello che ha segnalato questa cosa è stato sommerso da critiche ho letto anch'io ecco quindi questo per dire che questi graffiti che tra l'altro stanno facendo degli studenti mi pare è una bella cosa è una bella cosa e quindi e questo è un problema chiedeva però il nostro telespettatore sempre su questa strada sulla via la passeggiata dell'Isippo se era possibile mettere anche delle panchine dei cestini allora intanto voglio ringraziare i ragazzi che stanno facendo questi graffiti che sono andato anche a salutare l'altra mattina ricordo che dopo la Colle Marathon perché adesso domenica c'è la Colle Marathon partiranno anche i lavori di sistemazione della prima parte della passeggiata dell'Isippo che verrà risistemata ci saranno anche delle terrazze che consentiranno una passeggiata più piacevole anche per sostare quindi in quell'occasione ragioneremo anche di questo però ecco ci sarà un miglioramento a breve senta Sindaco la situazione la questione dei migranti per un certo punto si è parlato di ragazzi minorenni che sarebbero dovuti arrivare a Fano in particolare a Ponte Sasso per l'esattezza in una struttura di proprietà della Curia di Urbino ci fu una sommossa quasi popolare degli abitanti dei residenti di Ponte Sasso poi a un certo punto è venuto fuori che lì in quella struttura non andava più bene che fine hanno fatto questi migranti? allora per quello che riguarda la struttura di Ponte Sasso abbiamo ritenuto che non era idonea perché era molto grande fattiscente e non era la cosa più sana portare 30 ragazzi in una struttura dove si sistemava una parte e il resto rimaneva degradato su quella ci sono degli interessamenti di investimenti tengo conto che teniamo conto che quella è proprietà della Curia di Urbino però ci sono io ho avuto anche degli incontri hanno manifestato degli interessi ecco anche su questo vorrei sfrattare un mito noi sempre ci critichiamo Fano in questi ultimi periodi perlomeno da quando ci sono io in questi ultimi anni e mezzo vede tutta una serie di investimenti significativi che società anche esterne stanno facendo iniziative anche più piccole e vedremo nel prossimo anno molti cantieri in questa in questa città dimostrazione che è una città interessante tornando alla domanda la cosa sta andando avanti si sono individuate altre zone che hanno meno impatto ma che siano più idonee parliamo di due gruppi di ragazzi da 16 che sono minorenni 14-17 anni Sindaco riuscirà a portare a riportare i fanesi i marottesi che prima erano sotto il comune di Fano e che adesso sono per effetto di un referendum eccetera a riportarli nel comune di Fano oppure no? Io penso che ci possano essere delle buone possibilità però non è il sindaco che decide ma sono i giudici perché c'è un inter giudiziario che deve definire se quel percorso è stato a seguito i tempi come se non si quando parliamo di tribunali amministrativi può darsi che facciamo il tempo a fare ok allora io direi che possiamo fermarci qua con la puntata perché ci sono tanti messaggi che riguardano strade asfaltature e quant'altro ma di questo ne abbiamo parlato e comunque tutti i messaggi lo ricordo tutti i messaggi che voi ci mandate ancora per i prossimi due o tre minuti finché sarebbe in onda noi li faremo avere alla segreteria del sindaco non vanno perduti sulle strade ricordo che adesso partiranno dei lavori di asfalto non come lo scorso anno ma significativi anche quest'anno che andranno ad intervenire in zona per esempio a Sant'Orso che avevamo tralasciato lo scorso anno altre strade che sono in situazioni difficili ma stiamo ragionando perché noi guardiamo anche avanti e programmeremo anche nel 2018 degli interventi importanti perché questa città aveva bisogno di una manutenzione forte per quello che riguarda le strade penso che e poi avete un tesoretto da 25 milioni di euro no, quello non è stata una comunicazione precisa non è proprio così non è proprio così magari fossero 25 milioni di euro allora noi ci fermiamo io ringrazio chiaramente il sindaco di Fano Massimo Seri per la sua disponibilità la lasciamo alle ultime battute della partita se va di là in redazione metta pure cambi pure canale io voglio ringraziare e fare veramente direttore Marco Ferri e Fano TV perché state svolgendo un servizio importante vi racconto questo domenica ero il sindaco Gira è chiamato diverse iniziative ero l'iniziativa di un'associazione importante della città e mi chiedevo l'informazione poi ho detto non sono io il direttore di Fano TV alcuni avevano problemi con l'antenna io mi sono permesso di dare delle spiegazioni da domani c'è un cambiamento che renderà ancora più semplice vedere Fano TV ma devo riscontrare che fate veramente un servizio importante quando ci sono le emergenze noi pensiamo subito a Fano TV perché riusciamo a comunicare con la città ma anche questa trasmissione è una trasmissione utile perché al di là delle telefonate che non possono mai essere tante però ci è arrivata una serie di segnalazioni che poi noi giriamo agli uffici non le esaudiamo tutte perché è impossibile perché i problemi sono tanti però molte di queste grazie alla segnalazione che magari possono rimanere indietro o ci sfugono perché comunque non è Roma ma comunque è una città con la sua complessità per cui veramente grazie anche a tutti i telespettatori che non strumentalizzano perché potrebbe essere anche un'occasione per polemizzare per fare polemiche invece questa è una televisione di servizio no ma devo dire anche le telefonate sono tutte costruttive e deve continuare su questa linea quindi questo ed è questo il motivo anche del successo se vogliamo di pubblico e siete ascoltati anche da fuori perché anche oggi ero fuori nella vicina Pesaro e mi parlavano bene di Fano TV quindi questo è un buon segno bene Fano TV che sta passando comunque adesso diciamocela tutta fino in fondo un momento non certamente sereno ma comunque piano piano usciremo anche da questa tempesta sono cose che fortificano sono cose che fanno crescere anche queste esperienze e mi riferisco all'atto incendiario per esempio ma mi riferisco anche ai problemi tecnici che abbiamo avuto per il primo cambio di frequenza e colgo l'occasione per ricordare che non lo abbiamo scelto noi di diventare regionali non l'abbiamo deciso noi di cambiare frequenza il 12 di gennaio scorso ce lo ha imposto lo Stato italiano il Ministero dello Sviluppo Economico quindi abbiamo semplicemente obbedito temperato a quella che era un decreto legislativo che ci obbligava a fare questo cambio e adesso invece abbiamo deciso di cambiare frequenza perché? perché come dicevamo come diceva giustamente il Sindaco abbiamo riscontrato nelle settimane scorse che alcune zone di Fano erano un po' scoperte c'era una certa difficoltà a far entrare sulla frequenza 60 il segnale di Fano TV nelle antenne abbiamo fatto incontri con i tecnici con gli antennisti abbiamo fatto di tutto di più purtroppo c'è un problema oggettivo non sto qui a entrare nei dettagli ma c'è un problema oggettivo allora la decisione che abbiamo dovuto prendere che ho dovuto prendere è quella di cambiare di nuovo frequenza il cambio di frequenza non è mai indolore abbiamo dovuto purtroppo rispendere anche altri soldi cambiare operatore di rete lo faremo domani nella giornata di domani e dal 60 trasferirci alla frequenza 43 che è un'altra storia è un'altra cosa entra in tutte le case senza fare cambi nelle antenne manovre particolari quindi questo permetterà a tutti di ritornare a vedere senza problemi il canale Fano TV detto questo posso fare anche un annuncio quindi domani sarà una giornata dove potete chiamarci per dire se ci vedete se avete bisogno di una mano detto questo posso dare un'anteprima il mese di maggio lo abbiamo dedicato al mese del buon umore abbiamo bisogno un po' di sorridere e abbiamo bisogno un po' di rilassarci un attimino perché siamo un po' tutti tesi in queste ultime settimane e che cosa abbiamo deciso di fare lo dico in anteprima alla presenza del sindaco abbiamo deciso di trasmettere per esempio un film in deletto fanese che è andato benissimo al cinema è stato un esperimento riuscitissimo del regista Eri Secchiaroli e in prima visione assoluta in anteprima assoluta nel mese di maggio trasmetteremo gli sbancati e quindi per tutti quelli che non l'hanno visto è un'operazione fanesitudine che servirà per riprenderci un po' anche tutto quello che in queste settimane purtroppo abbiamo perso un po' per strada anche se devo dire la verità la gente ha fatto di tutto per continuare a vederci dal sito internet a gente che andava nelle case dove magari si prendeva la televisione il canale pur di continuare a seguirci ecco quindi testimonianze ed affetto straordinarie che ci danno la forza il coraggio e la determinazione nell'andare avanti ho parlato troppo grazie al sindaco la lascio la partita grazie a voi per averci seguito ci vediamo domani mattina alle 7.30 in diretta per la rassegna stampa primo cittadino torna tra una ventina di giorni perfetto grazie buona sera per la rassegna stampa